Ringrazio soprattutto il vostro comandante che ha voluto la mia presenza qui in mezzo a voi e pensavo questo, che voi siete un corpo e credo che dobbiamo sempre più tutti quanti di cercare proprio per diventare un corpo, penso alla città, penso un po' a tutte le nostre realtà, quindi come il nostro corpo ha una sua armonia, un suo equilibrio, il corpo cerca proprio di fare questo, il servizio che voi date alla città di questo tipo, garantire che nella città ci sia anche questa armonia, questo equilibrio, tutto quello che dovete fare, a volte quando arrivano le contravenzioni non fa sempre... Mi assicuro che la gente che viene qua non viene mai con il sorriso... Però è fondamentale quello che si fa, proprio al servizio della cittadinanza, al servizio degli altri. Vi complimento anche con gli autori, con gli ideatori, con chi ha avuto questa felice idea di rimettere questo morale. E poi il complimento anche per la qualità, San Sebastiano è veramente bello, espressivo, quindi noi abbiamo bisogno veramente di essere custoditi e custoditi nel bene, questo bene che vogliamo sempre bene per ciascuno e bene per tutti, il bene comune, questo sindaco, noi cerchiamo proprio di lavorare proprio in questa direzione. E quindi complimenti a chi ha realizzato, ma complimenti anche a chi ha avuto l'idea e a voi che vi siete fatti di... Se siamo un corpo, lo dobbiamo a tutti. E che avete contribuito per questa cosa bella e che fa bella tutta la nostra comunità. Grazie quindi, grazie a tutti. Grazie.